violente manganellate alla donna a terra assestate dritte al fianco anche se già c'è immobile non mostra atteggiamenti violenti e ancora spinte calci e una spruzzata di spray al peperoncino in pieno volto e la scena è mortelata da un video che sta facendo il giro del web e ripresa da un balcone in zona bocconi a milano si tratterebbe di un intervento della polizia locale nei confronti di una donna al momento non è chiaro cosa sia accaduto prima del tentativo di ammenettamento della donna da parte delle forze dell'ordine e la stessa polizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul fatto sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso nel frattempo però si alzano le voci di indignazione di cittadini e utenti di ogni genere immagini crude e forti che spingono l'autore del video ad accendere la videocamera del telefonino e a diffondere online l'intera scena la donna viene prima fatta cadere a terra poi colpita da quattro agenti della polizia locale mentre è seduta sul marciapiede prima un colpo sferrato alle spalle con una manganellata alla testa poi colpita ancora sempre dallo stesso agente al fianco destro mentre è girata dall'altra parte dopo essere stata resa inoffensiva con lo spray al peperoncino infine un ultimo colpo alla testa secco sferrato mentre un altro agente sta cercando di metterle le manette ai polsi il comune di milano fa sapere che stanno facendo tutte le verifiche per capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti la polizia locale continua palazzo marino e in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura